Siamo andati a smontare tutti, vedete ragazzi, tutto materiale originale, vedete, EL03, questo è un codice Audi Volkswagen, EL03, non si vede bene, pompa originale Audi, guardate il simbolo Audi Volkswagen, vedete, tutto materiale originale. Quindi ragazzi, le distribuzioni, ok, come abbiamo fatto anche in un video, vi abbiamo chiesto di commentare, secondo voi, lo stato di usura di quella distribuzione della 156, questa ragazzi è una distribuzione che, se uno la guarda al tatto, ti può portare fuori strada, ma se guarda l'anno di fabbricazione e il cliente ci dice che non ha mai fatto, e questa macchina ha 110.000 km, quindi sta ancora in fase, tra parentesi, dentro con i chilometri, Ma sta fuori come l'anni, 12 anni ragazzi, è una distribuzione che dovete cambiare urgentemente, perché è più del doppio di quello che ti ha detto l'Audi, capite? Non si è rotta perché è una distribuzione che ha camminato poco, perché in 12 anni si suppone che la macchina faccia tanti chilometri in più. E abbiamo cambiato tutto, ok, tutto il kit. Non fate come tanti che per risparmiare cambiate solo la cinta. Ragazzi, ho clienti che vengono e mi chiedono, ma sulla distribuzione, magari se non cambiamo la pompa dell'acqua risparmio? Ecco ragazzi, queste cose no, non lo fate mai. Ci sono meccanici che lo fanno ragazzi, noi questa settimana abbiamo cambiato una pompa dell'acqua, che il meccanico precedente non aveva cambiato su un kit di distribuzione di una Fiat. Ok, questa pompa, meno male che non si è rotta, si è rotto questo tappo di fusione, vedete? Questo tappo di fusione, ok, vengono messi dai costruttori, ok, su questa macchina che questa settimana abbiamo fatto si era bucato ed era ancora originale, c'era la cinta di una marca e la pompa ancora originale, marchiata Fiat. Ragazzi, non lo fate, cambiate tutto, comprate il kit, a parte che risparmiate, perché il kit si risparmia, se comprate singolo pezzo per pezzo si spendete più. Ma comprate materiale buono, Ina, Contitec, Daico, queste sono una delle marche che usiamo un po' tutti, quelle buone, e comprate sempre tutto il kit, quindi la pompa dell'acqua e i vari cuscinetti, rulli scorrevoli e il tenditore, ok?